questo è un tour particolarmente fortunato bello arriva in un momento giusto preciso in cui tutte le cose sono andate in ordine come dovevano andare quindi è un tour che ricomincio per ringraziare ancora di nuovo sempre tutti i miei fans e per ringraziare i miei collaboratori la mia agenzia la mia casa discografica i miei uffici stampa e così via ma soprattutto per rincontrare la gente il pubblico questi sono stati anni di lavoro difficile ma come dire questo questi concerti sono un premio prima di tutto per me per celebrare insomma questo momento particolarmente così tutto gira troppo veloce mancare l'aria io sono forte tu la terra fai da quella per la mia nuova luce per la mia nuova luce che è tutto quello che ho dammi un'alternativa niente parole solo suono non so chi sono in questo tour ho un'amica che mi accompagna sempre che è l'artista con la quale ho realizzato un bellissimo duetto in questo disco scriverò il tuo nome live quindi ho deciso di tenermela stretta insomma per tutti i concerti in più durante le varie date nelle varie città ci saranno altri ospiti a giorgio panariello a firenze a luca carboni a bologna che sono prima di tutto amici e poi dei grandi artisti con i quali c'è un feeling particolare